Inarrestabili le ragazze Amaranto che portano a casa un secondo successo consecutivo nella nona giornata di campionato di Serie C contro le marchigiane della Vista Civita Nova. Otto le reti segnate senza subirne alcuna. Arezzo subito all'arrembaggio dei primissimi minuti di gara. La prima vera occasione capita sui piedi di Razzolini imbeccata egregiamente da un lancio di Cirri. La conclusione della nove Amaranto finisce di poco a lato. Le ragazze di Mister Bonci sono comunque padrone del gioco e al minuto 24 passano in vantaggio con Zelli che direttamente da calcio di punizione con un tiro potente batte Ceriani. È l'inizio dello stradominio Amaranto alla mezz'ora raddoppio con Razzolini che scivolata trova l'ottavo timbro stagionale dopo una discesa degna di nota di Zelli. Tra il 43esimo e il 45esimo l'Arezzo cala il poker con una doppietta di ignisci che in entrambe le occasioni si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Nella ripresa Mister Bonci inserisce forze fresche e la storia della partita non cambia. Al 53esimo arriva una sfortunata deviazione della difesa marchigiana sugli sviluppi di un corner battuto da Lulli per la quinta rete Amaranto. Avvolgente e inarrestabile la manovra dell'Arezzo che continua a creare azioni pericolose e al 67esimo trova il sesto gol con Paganini rientrata dopo un lungo stop su assist di Leonessi. Non solo quantità ma anche tanta qualità. Al minuto 82 Tuteri si mette in proprio e trova un gran gol dalla distanza con il pallone che si infila sotto la traversa. Nulla da fare per Ceriani. Prima del fischio finale all'ultimo secondo arriva il definitivo 8-0 con Lulli che sorprende il portiere direttamente da corner. Per l'Arezzo continua così la riscossa sulla capolista Bologna che non si ferma e ottiene il nono successo consecutivo. Nel prossimo turno le ragazze Amaranto saranno impegnate nuovamente in trasferta contro la terza forza del girone C, il Filecchio. Le ragazze di Barga distano solo un punto in classifica dalle aretine. Era una partita sicuramente che non era facile perché quando si incontra queste squadre ci affrontano sempre a viso aperto e chiaramente non era facile partire subito e sbloccarla. Infatti ci è voluto diverso tempo, poi l'abbiamo sbloccata e siamo state brave subito a tenere la pressione alta e abbiamo fatto subito il 2-0 e chiaramente questo ci ha agevolato un po'. Poi è chiaro la partita ha preso una piega diversa, mi dispiace che chiaramente potevamo anche fare più gol in funzione a quelle che sono state le occasioni, però alla fine il risultato ha rispettato un po' le occasioni che abbiamo creato. Sì, queste sono occasioni anche per dare minutaggio anche a chi aveva giocato meno, chi aveva bisogno anche di recuperare la condizione. Chiaramente purtroppo il campionato è lungo e anche dispendioso, quindi bisognava a questo momento gestirla così. All'inizio dovevamo prendere un attimo il ritmo, poi dopo una volta capito com'era il campo, bello grande, dove giocare la palla a terra come sappiamo fare noi, dopo abbiamo iniziato a carburare un gol dietro quell'altro. È stata una vittoria importantissima per prepararsi al meglio per le prossime partite. Grazie.